Buongiorno a tutti, sono sempre VictorLas88 Allora, volevo mostrarvi questa maglietta Ti piacciono le acciughe? Che è una delle magliette del buon Monitor E vi consiglio di guardare lo shop Perché a me piace un sacco L'ho trovata carinissima, ce ne sono diverse, molto carine Quindi date un'occhiata e ringrazio Monitor Per avermene inviata una Quindi date un'occhiata allo shop Perché ce ne sono un sacco molto belle Peraltro è anche di ottima fattura E ottima qualità Me la sento bella morbida sulla pelle Ma scherzi a parte, date un'occhiata Perché secondo me le ha fatte fare molto carine Quindi grazie ancora Monitor E adesso vado al ciancio e iniziamo subito Con il video di oggi Sigla Allora, in tantissimi negli ultimi tempi Mi avete chiesto cosa ne pensassi Di una certa serie E vi avevo promesso un video a riguardo Solo che erano giorni che cercavo di farlo Ma dovevo dare la priorità ad altri prodotti che stavano uscendo Finalmente sono riuscito a trovare del tempo per parlarne E mi riferisco naturalmente ad una serie che trovate su Apple TV Plus Ed è Ted Lasso Giunta alla seconda stagione che si è conclusa di recente È una serie creata da Bill Lawrence Già creatore di Scrubs Sapete che Scrubs è la mia serie preferita in assoluto Quella che riguardo di continuo La guardo quando sono triste per termini sul morale La guardo quando sono felice Perché è una serie che mi mette allegria Insomma, sono in perenne riguardo di Scrubs E so di non essere l'unico E quando ho saputo che Bill Lawrence aveva creato Un'altra serie che stava anche avendo un certo successo Mi sono detto Cavolo, devo assolutamente recuperarla Colpevolmente però Non l'ho vista Quando andavo in onda la prima stagione Ma l'ho recuperata tutta Qualche settimana fa Poco prima che si concludesse La stagione 2 Questo perché Si è iniziato a parlare di Ted Lasso Solo dopo un po' Che la serie era uscita Ha iniziato a raccogliere consensi Finché non ha vinto tutto quello che poteva vincere Più o meno Agli scorsi Emmy E credo che farà strage anche il Golden Globe Perché comunque si tratta di un prodotto Veramente, ma veramente interessante Il protagonista Jason Sudeikis Che ha partecipato sia alla creazione della serie Insieme a Bill Lawrence Sia anche alla supervisione Della scrittura degli episodi Siano Nero è anche produttore Poi lui è un attore che a me piace tantissimo È un bravo comico E qua ha potuto esprimere anche un lato di sé Che spesso in passato Non gli era stato permesso di esprimere Allora ci saranno naturalmente spoiler Per cui se non avete visto Le prime due stagioni di Ted Lasso Vi sconsiglio vivamente di proseguire Con la visione di questo video Però prima di iniziare a parlare Della serie in maniera specifica Vi voglio consigliare caldamente la visione Perché secondo me va vista al 100% È una serie che ha come diciamo filo conduttore Il calcio Ma non temete Non è una serie Che può piacere solo a chi ha mai calcio Ad esempio non seguo questo sport Non mi piace Non mi ha mai entusiasmato Eppure trovo questa serie straordinaria E vi dirò di più Io adoro Scrubs Ho recuperato anche lì In grave ritardo Solo l'anno scorso The Office Che è diventata Una delle mie serie preferite Quasi a livello di Scrubs In realtà The Office Secondo me è superiore a Scrubs Ma a livello personale Scrubs lo preferisco Leggermente di più Solo perché Vi sono emotivamente più legato Ma The Office È lì Per il mio personale apprezzamento Poi a livello Secondo me obiettivo È anche sopra Ma Ted Lasso Si è andata A infilare di prepotenza Tra queste due E credo che sia Il trio delle comedi Perfetto Veramente Quindi Se non avete visto Ted Lasso Fatelo assolutamente Quindi Adesso farò Per appunto un po' di spoiler Perché parliamo In maniera più approfondita Di questa serie Allora Io quando ho iniziato a vederla Non sapevo cosa aspettarmi Mi avevano detto Guarda Ted Lasso È una serie spettacolare Parla di questo Allenatore di calcio In Inghilterra Che deve Risollevare Questo club Che ha molti problemi Ecco Io Quando ho saputo Che la serie Aveva a che fare col calcio Ho pensato Però Va detto che Anni fa Avevo guardato Una serie Su Netflix Che si chiama Club de Quervos Che aveva una tematica Abbastanza simile Se non sbaglio Era una serie messicana Che si sono cagati in due Qui da noi Ma Ha avuto un certo successo All'estero Non tra le più viste Su Netflix Per amore del cielo Però Non mi aveva fatto Sicuramente schifo L'avevo trovata divertente Quindi ho detto Vabbè Ho visto quella Che comunque Aveva a che fare col calcio Mi ha comunque divertito Perché non dovrei vedere questa Che peraltro È di Bill Lawrence Cioè io a Bill Lawrence Do la mia piena fiducia Anche se ad esempio A me è Cougar Town Non mi è piaciuto Perché è una serie Che non è molto Il mio genere Nel senso che È sì una comedy Ma È una comedy Che non mi ha mai preso molto Devo essere sincero Mi sembra Più per un target Un po' più antico Gli anni Se vogliamo Rivolta più forse Un pubblico femminile Ecco Quindi non l'ho mai Apprezzata tantissimo Con Courtney Cox E ancora Krista Miller Che è la Jordan Di Scrubs Che peraltro È la moglie del regista Ma al di là di questo Del regista E il creatore Cioè Bill Lawrence A parte questo Diamogli fiducia Perché comunque Ne stanno parlando tutti Si vede che La serie Ha comunque Un suo quid Evidentemente Che vuol dire che Sta piacendo Allora Ho iniziato a guardarla E mi sono innamorato Ora Apple TV Plus Fino a un po' di tempo fa Non l'avrei Certamente Considerata Tra le piattaforme Più interessanti A cui abbonarsi Però va detto Che Negli ultimi mesi Si sta Un pochino Riprendendo Perché Ci sono C'erano già Dei prodotti Che non erano male Come il The Morning Show Come La serie su Snoopy Qualche film Ogni tanto Io ho fatto L'abbonamento Tempo fa Per Cherry Il film di Fratelli Russo Con Tom Holland Che non mi aveva Minimamente soddisfatto Però nel frattempo Poi Erano uscite anche serie Come ad esempio Questa Oppure Ancora più di recente Foundation Adesso InVision Che non è affatto male Quindi Iniziano ad esserci Più motivi Per abbonarsi A Apple TV Plus Che non costa Neanche tanto Tra l'altro E Ted Lasso È sicuramente Uno di questi Motivi È un po' Il fiore all'occhiello Di Apple TV Plus E sono rimasto Principalmente colpito Perché è una Di quelle serie Che fanno Ammazzare Dal ridere Ma che Lasciano anche Spazio A momenti Che ti pugnalano Al cuore In una parola È tutto quello Che io adoro Di Scrubs Io quello che amo Di Scrubs È che Riesce a ficcarti Nel giro di Trenta secondi La battuta Sui pantaloni Di doccia E poi quella Sul dove pensa Che siamo Il tutto Nel giro Veramente Di pochissimo Sono Rispettivamente Una delle battute Che più mi spezzano Di Scrubs E uno dei momenti Che più mi fanno Piangere Peraltro Guarda caso Proprio ieri Ho rivisto Quella puntata E credo Di averla vista Una quarantina di volte E in nessuna Di queste Sono riuscito A evitare di versare Almeno una lacrima Non ce la faccio Piango Mi distrugge Quella scena È perfetta Proprio da un punto di vista Della costruzione narrativa Quindi Quando ho intuito Che Ted Lasso Era una serie Come quella Io ho pensato Non ci posso credere Perché era un po' Che Lorenz Non metteva in gioco Questa sua verve Lui è un grande appassionato Di sitcom Aveva creato anche Spin City E infatti In Scrubs Ci sono praticamente Tutti i personaggi Spin City Che fanno almeno Un cameo Non so se vi ricordate Però Per l'appunto Quella era una sitcom Poi è passata La comedy Con Scrubs Poi ha fatto altro E con Ted Lasso È tornato proprio All'atmosfera Di Scrubs Jason Sudeikis Secondo me È stato bravissimo Perché È riuscito A interpretare Questo personaggio A cui non puoi voler male In nessun modo Cioè Ted Lasso Che Da il nome alla serie È il protagonista È un uomo Di una bontà straordinaria Ma non è un imbecille È uno di quei personaggi Che si fanno amare Perché È uno scemo Ma in senso buono Ha sempre voglia di scherzare Non ha mai una parola negativa Per nessuno È una persona straordinaria E la serie Ce lo fa conoscere pian piano Inizialmente tu ti chiedi Se questo qui ci faccia O ci sia E ti chiedi Ma perché si comporta In questo modo Cioè perché Poi Questo allenatore Di football americano Alle prime armi Dovrebbe scegliere Di andare Ad allenare Una squadra di calcio Che peraltro È uno sport Che lui non conosce La cosa particolare È che La serie inizia con lui Che va per appunto Ad allenare Questa squadra di calcio Il Richmond A Londra E Tutti sottolineano Soprattutto i giornalisti Che Fondamentalmente Lui Non ha idea Di cosa sia il calcio Non sa le regole Non lo conosce Ma era Diciamo Assurto alle cronache Perché Aveva portato In vetta Una squadra Di football In un campionato Però Non particolarmente Considerato Insomma Con Grazie a Un modo di fare Particolare Che era piaciuto Molto Ai giocatori E girava Questo video Di lui Che festeggiava Con loro Negli spogliatoi Mentre li caricava Ecco Io Guardando La prima puntata Ho pensato Questa serie Probabilmente Darà delle grandi soddisfazioni Perché Poi Man mano Che si va avanti Tu capisci che In realtà Lui Ha una moglie Un figlio E la mia domanda È stata Subito Ma Questo Hanno a moglie Un figlio Ma che cazzo C'è andato a fare Negli Stati Uniti In Inghilterra Dagli Stati Uniti In America Per allenare Una squadra Di uno sport Che neanche Conosce La risposta È presto detta È in grave crisi Con la moglie Che gli chiede Spazio Da cui poi Successivamente Divorzierà Quindi lui L'ha fatto Per darle Quello che Gli chiedeva Ovvero Per darle spazio Salvo poi scoprire Che lei Non era più innamorata Che ha fatto di tutto Per cercare Di Rindamorarsi Lui Ma non c'è riuscita E C'è una scena Spettacolare Di lui Che Appena ottenuto Un risultato Estremamente Soddisfacente Ma Fondamentalmente Gli viene Questo attacco Di panico Mentre In discoteca E Viene Soccorso Da Rebecca Che è Diciamo La presidentessa Del club Ecco E qui C'è già Il rapporto Problematico Perché Rebecca È la moglie Di questo Dell'ex presidente Del Richmond Che è un Uomo ricco Un bastardo Manipolatore Che L'ha tradita L'ha Mollata Le ha divorziato E È riuscita A ottenere La squadra di calcio Si è presa Anche quella E quindi Il suo obiettivo È distruggerla Perché è la cosa Che il suo ex marito Ama più Di ogni altra E quindi vuole distruggere Questa squadra di calcio E ha Assunto Ted Lasso Perché è convinta Che sia la persona Che può affossare Il Richmond Il problema è che Ted Lasso Non è un semplice Allenatore È questa la cosa Bella Lui inizia a cercare Di conoscere Il più possibile I membri Della squadra E La cosa Che io adoro Di Ted Lasso È proprio questa Cioè che Tutti i personaggi Da quelli principali A quelli secondari Sono scritti In una maniera Perfetta Ti affezioni Ad ognuno di loro Ad ognuno Dei singoli membri Della squadra Perché poi C'è un'evoluzione Di ogni personaggio Anche di quelli Che sembrerebbero Inizialmente Più insignificanti Che è pazzesca Ad esempio Jamie Tart Che è Diciamo Il giocatore Più bravo Della squadra Che è però Il classico Arrogantello Che pensa Di essere Gesù Cristo È un personaggio Che inizialmente Ti fa pensare Santo cielo Basta Ma questo La può smettere Fino ad arrivare Al punto In cui ti dispiaci Per lui E Ted Lasso Non fa altro Che credere In questo ragazzo Anche quando lui Volta Gli volta le spalle E ha una sorta di rapporto Padre figlio Perché a un certo punto L'unica cosa Che Jamie Tart Vuole È l'approvazione Di Ted Lasso Perché poi Lui Se ne va Della squadra Perché torna Al Manchester City E poi Ritorna Al Richmond Perché Tra l'altro La cosa bella È che Non è Una di quelle serie Che Ti dà Quello che vuoi E che ti aspetti Tu ti aspetti Alla fine della prima stagione Di vedere il Richmond Che era Rischio retrocessione Non retrocedere E invece retrocede È questa la cosa bella Però perché lo fanno Perché in questo modo Devono risolvere Le controversie Devono risolverti Jamie Tart Che poi torna Nella squadra Perché il Manchester Lo piscia Nella seconda stagione Lo butta fuori Quindi lui torna Nella squadra Peraltro è grazie Al suo gol Che il Richmond Retrocede C'è anche questa Cattiveria di fondo Sul fatto che Jamie Tart Se ne va Perché il Manchester Lo richiede E poi È lui A mandare In retrocessione La squadra Salvo poi tornare Nella squadra Ed essere uno dei motivi Per cui Alla fine della seconda stagione La squadra Tornerà Nel campionato Principale Nella Premier League Quindi C'è anche questo tipo Di evoluzione E nonostante Le sconfitte Ted Lasso Riesce Comunque A tenere alto Il morale Questo perché Lui Allena la squadra Pur non sapendo Un cazzo di calcio Con un'emotività Che fa tirare fuori Il meglio Di ciascuna persona E infatti La squadra Lo ama Non vorrebbero mai Che lui Se ne andasse Perché È una Diciamo Una persona Straordinaria E infatti A un certo punto Anche Rebecca Inizia a non riuscire più A voler Distruggere la squadra Perché sa Di star facendo il male A un bravo uomo Ma Il punto è Che Lei Non è cattiva Peraltro Interpretata Da Anna Wading Anche vinto anche Lei è bravissima Lei secondo me Io credo Che Il suo personaggio Sia interessante Proprio per questo motivo Perché Fondamentalmente Lei Vuole solo Una vendetta Verso un uomo Che la distrutta E Cercando questa vendetta Inizia a diventare Esattamente come Quella persona Che detesta Salvo poi A un certo punto Rendersi conto Che non può Trattare in quel modo Ted Lasso Ma anche il Coach Bird C'è questo C'è anche questo Sudalizio Il Coach Bird Che è Il Coach Barba Che è il braccio destro Il Ted Lasso Che è un personaggio Inizialmente secondario Che poi diventa Veramente interessante Ma come anche Rebecca Rebecca Sembra inizialmente La stronza Cattiva Poi però piano piano Tu capisci Perfettamente Che Semplicemente Una persona fragile Che ha commesso Un errore Infatti poi alla fine Chiedere la scusa A Ted Tra l'altro C'è tutta quella cosa Dei biscotti Lui Che ogni giorno Si presenta da lei Con i biscotti E lei non capisce Dove li prenda E si scopre Che li cucina Lui stesso E lui stesso a farli Comunque dicevo Il Coach Bird C'è questa Lui inizialmente Sembra una persona passiva Peraltro Ogni tanto Ti parlano di questa Relazione tossica Che ha con questa tizia Che anche lei Appassionata di scacchi Perché lui è un grande Giocatore di scacchi E quindi Non si capisce mai Effettivamente Se i loro due Stiano insieme Prima sono insieme Poi sembra che si sono mollati E c'è una puntata Nella seconda stagione Che per me È una delle migliori Io quando l'ho vista Ho pensato Wow È una delle migliori È questa puntata Dove il Coach Bird Se la prende Per una sconfitta Che Richmond subisce A questo torneo In cui Milacolosamente Erano andati avanti E si risente molto Perché a Ted Non interessa Perdere o vincere Lui interessa Il viaggio Ted Lasso È proprio il classico personaggio Che pensa Che ciò che provi Durante un'esperienza Sia più importante Dell'esperienza stessa Non importa A che risultato porta L'importante È che ti arricchisca dentro Che è una cosa bellissima Però il Coach Bird A un certo punto Inizia a pensare Ma cazzo Ma possibile Che io devo sempre Perdere Ma una volta Non sarebbe vero vincere E c'è questa puntata Che è spettacolare Perché è onirica Al massimo Con lui Che inizia Ad andare in giro Per Londra A ubriacarsi E vive questa nottata Pazzesca In cui a un certo punto Deve scappare Da dei tizi Che lo vogliono menare In un vicolo Dopo una fuga Sui tetti Che si butta Da questo palazzo Del cassonato Di rifiuti Salvo poi trovare La sua ragazza Con cui si era mollato In questa chiesa Abbandonata Che è stata riconvertita A club Come se fosse un'epifania E si ritrovano E si rimettono insieme Tant'è vero Che io A un certo punto Ho pensato Adesso si scopre Che o è morto Oppure in coma In ospedale E invece no Quello che abbiamo visto È quello che effettivamente È successo E È bellissimo Perché è allucinante Come Come puntata Eppure una delle migliori Io l'ho amata Alla follia E la cosa bella È che pur essendo Una serie statunitense È ambientata Per appunto Londra E ha un'atmosfera Che è molto simile A quella che Che permea Le serie britanniche Anche lo humor Perché comunque La maggior parte Dei personaggi Sono britannici Quindi anche lo humor È particolare E Tra l'altro Ovviamente ci sono Tanti personaggi interessanti Jamie Tart Era uno di questi Ad esempio Ma ce n'è un altro Che io ho nel cuore Del mio preferito In assoluto Che è naturalmente Roy Kent Cioè Il capitano Della squadra Che Ormai Ha una certa età E che sa Che deve Prima o poi Abbandonare Non solo il ruolo Ma proprio Questo sport Che ama Non potrà più farlo E È ovviamente In perenne rivalità Con Jamie Tart Perché Jamie Tart Gli ricorda lui Quando era un po' più giovane E infatti Roy Kent È l'idolo Di Jamie Tart Era l'idolo Di Jamie Tart Che quando l'ha visto Invecchiato E scontroso Ha iniziato a Pensare Di essere migliore Brett Goldstein Che è l'attore Che interpreta Roy Kent È anche Uno degli sceneggiatori E c'è stata Questa polemica Ve l'ho già detto Tempo fa Perché Non so per quale motivo Saranno Le luci La fotografia In tantissimi Momenti Sembra che lui Sia realizzato In computer grafica Sembra un giocatore Di FIFA E c'era stata Questa polemica Perché il pubblico Sosteneva Che Brett Goldstein Non esistesse E che fosse Un effetto visivo Ovviamente No Brett Goldstein Esiste Ma durante la serie Vi assicuro Che sembra realizzato In computer grafica E questa cosa Mi ha sempre spezzato E Roy Kent È palesemente Innamorato Di Kili Che è interpretata Juno Temple Che qua è Spettacolare Sia proprio Come ti dice Ma anche il personaggio Io lo adoro È questa ragazza Che è una sorta Di influencer Che inizialmente Sembra Noca E poi invece Rivela una grande Intelligenza Fino ad arrivare Ad avere una propria Agenzia E il finale La seconda stagione Ti fa capire Che Lei è talmente Presa Da questo suo nuovo Progetto Che sente Di non poter dare A Roy Quello che lui vorrebbe E quindi Sembrerebbe Che i due Si stiano mollando Anche se lei Sembra negare L'evidenza Quindi C'è questo rapporto Perché inizialmente Lei è la ragazza Di Jamie Poi quando si molla Con Jamie Diventa la ragazza Di Roy E Fondamentalmente Sono una coppia Fantastica Roy è Meravigliosa Anche perché Black Ghost Ha questo accento Marcatissimo E ha questa voce Così E quindi Ogni tanto La senti Fa Nooo Ha questo modo Di parlare Che è un brontolone È fantastico Poi è bellissimo Il rapporto che lui ha Con la nipotina È come una sorta Di padre Per lei E c'è questa puntata Bellissima In cui Roy e Kiri Sono meravigliosi Che Hanno a che fare Con la bimba Che Gli viene lasciata In custodia Il giorno di Natale Perché La madre ha avuto Un'emergenza Un'infermiera E Lei dice che un bambino L'ha presa in giro Perché ha l'alito Pesantissimo Loro sentono l'alito E si spaventano Perché dicono Ma come mai Cioè non è normale È qualcosa di medico E allora Girano tutto il quartiere Il giorno di Natale Per trovare Un dentista Poi trovano questa donna Questa dentista Che spiega Che semplicemente Lei ha iniziato A prendere gli antistaminici Che asciugano La saliva E quindi La bocca Ha solo un cattivo odore E c'è questa scena In cui Sia Kiri Che Roy Portano la bambina A casa Del bambino Che Che l'ha presa in giro E rifanno La scena Di un film Che io adoro E che in Gran Bretagna È patrimonio nazionale Che è il film Di Natale per eccellenza Una delle migliori Commedie romantiche Che abbiamo visto Che è Love Actually Di Tony Curtis La scena famosissima Dove c'è Andrew Lincoln Che sarebbe diventato Solo in un secondo momento Il Rick Grimes Di The Walking Dead Che davanti a Keira Knightley Le dichiara il suo amore Facendo finta di essere Uno dei cantori di Natale Con i cartelli Una scena che è stata Parodiata Ripresa Mille altre volte Quel film è un cazzo Di cat di genere Ma comunque Quella scena lì Con lei che dice Che si è sentito offesa E che vuole che lui Le chieda scusa Mi ha divertito tantissimo Perché non me l'aspettavo E quello di cui parlavo prima È una serie Statunitense Però viene trattata Con la verve Di una serie britannica Questa è la cosa Che adoro E È una serie Che ti manda Dei messaggi bellissimi Perché comunque Ogni personaggio Ha le sue fragilità Ad esempio C'è una storyline Che io ho adorato Che è quella di Samo Bisagna Che è questo Calciatore Africano Che è lontano Da casa E Ha un bellissimo Rapporto col padre Ed è anche Il calciatore Più impegnato Perché a un certo punto Il padre dice Guarda io Sono molto deluso da te Perché ho visto Che hai fatto Un servizio fotografico Per lo sponsor Delle vostre maglie Che è Questa associazione L'azienda petrolifera Che ha anche Una compagnia aerea Tu devi sapere Che nel nostro paese Quella compagnia petrolifera Ha distrutto Le nostre terre Ha ucciso Un sacco di persone Allora lui Prende posizione Ed entra in campo Perché lui Non lo sapeva ovviamente Entra in campo Con un astro adesivo nero Sopra allo sponsor E quindi Viene poi Poi seguito Anche Questa è una seconda stagione Dalla squadra Ma il primo A seguirlo È proprio Jamie Tart Che era uno stronzo Che prendeva in giro Sam E tanti altri calciatori Della squadra Perché vuole essere Vuole integrarsi Cioè Jamie Tart Ha un arco evolutivo Che è fantastico Quindi tutti Vanno in campo Con il nostro adesivo nero A coprire lo sponsor E questo Affascina molto Rebecca I due Poi il nuovo sponsor È questa app Di incontri Che era un'app In cui tu ti iscrivi e basta In forma anonima E poi decidi Se incontrarti Loro due Si scrivono Senza sapere Chi sono E iniziano Questa storia D'amore Che mette lei Molto sotto pressione Alla fine Però ovviamente L'amore vince Perché è una serie Che ti dà Molta speranza Spesso le cose Non vanno come vuoi Ma perché Di fatto nella vita Le cose non vanno come vuoi E quindi mi piace Il fatto che sia una serie Che sotto certi punti di vista Può anche dirsi Piuttosto realistica E poi c'è un personaggio Che ha avuto Un arco evolutivo Molto strano Che è Nick Interpretato da Nick Mohamed Che inizialmente Era il tuttofare Era quello che si occupava Di lavare le divise Pugli di spogliatoi Pugli di sistemare il campo Quando arriva Ted Ted inizia a trattarlo Con il rispetto Che si merita E che non ha mai avuto E tra l'altro Mano a mano Che si va avanti Lui ha i capelli Che diventano Sempre più brizzolati Sempre più grigi Questo personaggio Ed è molto divertente Fino che però A un certo punto Non entra a far parte Della squadra Di allenatori Anche Roy Kent Che inizialmente Era andato a fare Il commentatore sportivo Su Sky Dopo aver lasciato la squadra Perché era ormai Troppo vecchio E a un certo punto Diventa uno degli allenatori Che c'era l'allenatore capo E poi il team di allenatori Che sono Coach Bird Nick E appunto Roy Nick inizia a sentirsi messo da parte Fino a che A un certo punto Non è lui A vendere questo scoop Perché Ted Ha questo attacco di panico E lascia il campo Dice che ha avuto Un'intossicazione alimentare E invece Agli altri allenatori E ai suoi amici fidati Confessa di aver avuto Un attacco di panico E la stampa Lo massacra Cosa succede? Succede che Si scopre che è Nick E perché? Perché Nick dice Tu mi hai fatto sentire La persona più speciale del mondo E poi mi hai abbandonato Non era intenzione di Ted Non è che l'abbia abbandonato Semplicemente Era convinto Che Nick potesse camminare Con le proprie gambe E il finale La seconda stagione Proprio l'ultima scena Poco prima si scopre Che l'ex marito di Rebecca Ha comprato una squadra di calcio Si scopre poco dopo Che il Richmond Dopo poco Dopo poco che il Richmond vince E torna in Premier League E vediamo che L'allenatore di questa squadra È proprio Nick Che se n'è andato Dal Richmond Dopo aver detto a Ted Tu mi hai abbandonato Vaffanculo Quindi la vera sfida Nella prossima stagione Sarà tra il Richmond E il West Ham E per l'appunto Nick che lo allena Per cui questa cosa È fantastica L'arco evolutivo di Nick È strano Ma mi è piaciuto E poi c'è un personaggio Che devo essere sincero Io adoro Ed è questo giornalista Che è Trent Cream Dell'Independent Peraltro Quest'uomo Con questa capigliatura Caratteristica Che inizialmente È Un Un hater Diciamo Questo giornalista Sportivo Cattivissimo Di Ted Lasso Solo che un giorno Le circostanze Lo portano A intervistarlo Si fanno un pranzo Insieme E Trent Cream Viene folgorato Da quest'uomo Americano Che arriva E sembra quasi Un imbecille Perché dice Ma questo fa sul serio Ma c'è qualcosa Di magnetico In lui C'è qualcosa Di particolare E scrive Questo articolo Dicendo Secondo me Richmond Retrocederà Assolutamente sì Posso dire però Che Ted Lasso Non sia l'uomo Giusto per allenarlo No non posso Perché E si crea questo rapporto Perché si crea questo rapporto Di stima reciproca Tant'è vero Che Trent Cream A un certo punto Scrive un messaggio A Ted Lasso Una seconda stagione E gli dice Io da un punto di vista Giornalistico Devo Ho dovuto farlo E quindi Sappi che uscirà Un certo articolo Ma come amico Ti devo dire Che uscirà E ti Diciamo Il giornalista Non può dirti Che era L'articolo su Attacco di panico L'ha scritto Trent Cream Come giornalista Io non posso Dirti Chi è la fonte Come amico Ti posso dire Che la fonte È Nick Il tuo Compagno allenatore Quindi Trent Cream Una persona Cioè Un personaggio Fantastico E alla fine Molla L'independent Perché dopo aver scritto Quell'articolo Si è reso conto Che il suo mestiere Non può essere Solo Fai quella cosa Perché va fatta E c'è questa battuta Che è molto britannica Dice Non sono più Giornalista L'independent Quindi ora sarei Trent Trent Cream L'independent Perché è indipendente Quindi You're gonna be Trent Cream The independent Quella cosa è bellissima E il rapporto Tra loro due Mi piace un sacco Non è un personaggio Che compare spesso Ma è lì Che capisci La grandezza Del personaggio Di Ted Lasso Una persona Talmente buona Talmente Gentile Che non riesce Neanche a biasimare Nick Perché dice Ha ragione Io non l'ho fatto apposta Ma dal suo punto di vista L'ho abbandonato Non riesce A arrabbiarsi Per averlo messo Nei guai Con i giornalisti Per aver diffuso La questione D'attacco di panico È stata una gravissima Violazione dell'intimo Nick è un omino Cioè Nick è veramente Un ometto Nick È il tipico Caso Di persona Che io detesto Cioè ci sono Delle persone Secondo me Che non dovrebbero Mai Mai nella vita Avere E provare Un briciolo Di potere Perché sono talmente State Sfruttate Prese in giro Dalle persone Che hanno maturato Un tale rancore Nei confronti Del mondo E della vita Che quando Entrano in possesso Di un minimo Di autorità La usano Per ferire Gli altri Per prendersi Quella rivalsa Che credono Gli sia dovuta Ma quasi mai Vanno a rivalersi Sulle persone Che hanno fatto del male Ma iniziano a diventare Degli stronzi Ci sono Nick è una di quelle Cioè Io capisco Il punto di vista Di Ted Lasso Che dice Ha ragione L'ho abbandonato Ma quando lui dice Tu mi hai abbandonato Io ho pensato Ma che cazzo Sta dicendo questo Ma non è vero Non l'ha abbandonato E anche se fosse Non è quello Il modo di reagire Perché tu sei stato Trattato malissimo E cosa fai Appena hai un minimo Di autorità Tratti male Gli altri A un certo punto Si mette a trattare male Quello che ha preso Il suo posto Come tutto fare Cioè lui Che è sempre stato Trattato male Nel momento in cui Diventa allenatore Inizia a trattare Di merda Il tutto fare Nick è quel tipo Di persona lì Per cui io non riesco A empatizzare Più di tanto con lui Perché sì È bruttile Il punto è questo Io ragazzi Ho subito bullismo Sono sempre stato Trattato come uno stronzo Quando ero ragazzino Ero Siccome io Tendenzialmente Sono una persona Comunque Che vede Cerca sempre Di vedere il bene Negli altri Mi dicono sempre Che sono troppo buono Spesso la gente Se ne ha approfittata Però non per questo Ho smesso di credere Nelle persone Però Nella mia vita Sono stato trattato Molto male Anche per Cioè Quando ho iniziato A fare youtube Venivo trattato male Anche dagli amici Che dicevano Ma che cazzo fai Una roba Da sfigati Che sta parola Sfigato Me la porto dietro Da quando sono Alle medie Una volta Aveva effetto Se me lo dicono adesso Dico Grazie Frega un cazzo Perché ho 33 anni A 33 anni Puoi farti Una ragione Del fatto che ci saranno Persone che Ti chiameranno In un certo modo E devi imparare A dire E sti cazzi Ok Adesso lo so Prima non lo sapevo Però Porca puttana Non è che poi Ho iniziato A magari Ad avere Seguito su youtube E sono diventato Uno stronzo Che tratta di merda Magari Youtuber agli inizi No Se io vedo Un collega Che magari Ha meno iscritti Di me E meno spettatori Meno persone Che lo seguono Non è che dico Ah ma quello stronzo Merda No anzi Se quella persona Mi chiede Un aiuto Tipo Facciamo qualcosa Insieme Eccetera Se in quel momento Posso farlo E non ho Magari Non sono Uberato In maniera esagerata E quindi Tipo Non riesco Se riesco Io dico Sì va bene Certo Ok Quindi Non è che se uno Ha subito Qualcosa Di brutto Nella vita Deve restituirlo A tutti No Cioè Fa parte del processo Di maturazione Hai subito Delle cose Ciò non significa Che devi diventare Per forza Una persona Una stronza O cattiva Poi Mi dispiace Per chi purtroppo Viene sopraffatto E non si rende conto Però È una cosa Che a me Ha sempre dato Molto fastidio Ne ho conosciute Diverse persone così E mi dispiaceva Tantissimo per loro Cioè Detestavo Quell'atteggiamento E dicevo Ma porca miseria Guardate Proprio Proprio lui O lei Che ha subito Questa cosa In passato Adesso Che Ha questo Minimo Di potere Di autorità Va come lo usa E quindi Capite che è una cosa Che mi dà Un fastidio Incredibile Ed è per questo Che nico Un personaggio Che adoro Perché è scritto Per essere così Quindi adoro Il fatto di detestarlo È questa la cosa Quindi Perché Quando un personaggio Ti prende così tanto E provi Sinceramente Un sentimento Che sia buono Cattivo Verso lui Vuol dire Che il personaggio Funziona E è stato scritto bene Poi La serie Dei momenti Che sono anche Stracomici Come ad esempio L'inizio della seconda stagione Con Danny Rojas L'entusiasta Giocatore messicano Che batte un rigore Nel momento in cui La mascotte Il cagnolino Della squadra Era scappato E stava saltando Verso la porta Lo prende in pieno Uccidendolo La frase Tipica di Danny Rojas È Football is life Il calcio è vita Che diventa Football is death Tra l'altro Lui che Ha l'incubo Mentre Uccide il cane Ok Perché Nel senso La cosa è successiva Ma lui Lui ha gli incubi Su questo Si sveglia In alcuni momenti Quindi Veramente Veramente Un pool Di personaggi Semplicemente Straordinario Una serie Ben diretta Anche se comunque La regia Non è la cosa più importante Perché nelle serie comedy Non è la prima cosa Che noti Però devo dire Che non è male Ma Il pezzo forte È proprio la narrazione La scrittura Il fatto che ci sono puntate Che sono basate su personaggi Che mai avresti pensato Di arrivare ad amare così Ma chi cazzo Si sarebbe mai aspettato Che a un certo punto Avremmo avuto una puntata Completamente folle Totalmente Ed esclusivamente Basata Sulla nottata Del coach Del coach bird Oppure Chi avrebbe mai pensato Che a un certo punto Avresti Voluto Abbracciare Ted Lasso Cioè Nella scena in cui Gli viene l'attacco di panico Io avrei voluto Proprio abbracciare Gli dici Va tutto bene Perché quest'uomo È meraviglioso È bravo È gentile Non è una persona Esente Dal fare errori Ad esempio A un certo punto Arriva questa psicologa Della squadra Lui va da lei E lui non crede Nella terapia E la tratta malissimo Però al punto Che lui sa Di averla trattata malissimo E si crea questo rapporto Che a un certo punto Io pensavo anche Sfociasse in un rapporto Amoroso In realtà no È un rapporto di stima Probabilmente lei È anche attratta da lui Ma Essendo stato un suo paziente Non vuole Combinare casini È giù questa scena In cui lei Si fa male Perché mi sembra Che cade la bicicletta Mi ricordo Si cade la bicicletta Comunque batte la testa È una commozione cerebrale E siccome lui L'aveva trattata male Lei Ha Nel suo inconscio Un po' di Risentimento Nei suoi confronti E inizia A chiamarla Ripetizione Solo che è svalvolata Per la commozione cerebrale E c'è lui che dice Comunque canti molto bene E c'è lei che si è messa a cantare Questo musical Ma tipo tutto al telefono Lasciando gli messaggi E c'è lui che le fa sentire La registrazione E io stavo morendo Perché è una roba surreale Ed è È veramente Bella come cosa Tra l'altro c'è questa cosa Dei soldatini Lui che aveva preso Soldatini al figlio E regala questi soldatini A ciascuno membro della squadra E alle persone a cui vuole bene Come monito Di come comportarsi nella vita Di cercare di essere sempre positivi E andare avanti È una serie Secondo me È veramente Riuscita Era tanto tempo Che Bill Lawrence Non era così ispirato Ma anche Jason Sudeikis Diamo Diamo anche il merito a Sudeikis Che ha interpretato Ha scritto Ha co-creato la serie Cioè è proprio Il classico ruolo Della carriera Cioè si vede Che è proprio il ruolo Che avrebbe sempre voluto fare Perché gli dà la possibilità Di esprimere Il suo potenziale comico Peraltro in maniera Nettamente migliore Rispetto al solito E di esprimere Un insospettabile talento Per il dramma Per le parti drammatiche Perché ci sono dei momenti In cui È stato chiamato A interpretare Il dramma Del personaggio Che sta divorziando Che ha gli attacchi di panico Che non è ben voluto da nessuno Ma che riesce Che non è ben voluto da nessuno Quando arriva I tifosi l'odio Eccetera Fino a un momento In cui addirittura Non va tra loro al pub E iniziano a chiamarlo Segaiolo Prima come insulto Poi come In maniera bonaria E lui porta Questo 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 soprannome The wanker Il segaiolo Con orgoglio Cioè lo chiamano Inizio a chiamarlo Segaiolo Per acclamarlo Wanker 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 Questa cosa è bellissima Cioè È una persona Talmente strepitosa Talmente splendida Che È impossibile Vorergli male E quindi Anche chi prima Lo odiava Inizia ad adorarlo Quindi insomma Sarebbe impossibile In una sola recensione Analizzare Ogni singolo Personaggio Perché hanno tutti Poi una maturazione Incredibile La maturazione Di Chili Ad esempio È stratosferica Lei che diventa Amica di Rebecca La quale la chiama Per come responsabile Del marketing Per i giocatori E poi arriva Ad avere la propria agenzia Diventa una donna Forte Indipendente Parte già Come donna forte Ma non così Indipendente A un certo punto La sua indipendenza La dimostra Distaccandosi da Roy Perché inizialmente Dipende da Jamie Poi indipendere Roy E poi Inizia a volare Da sola Quindi personaggione Incredibile Tutti i personaggi Li adoro Roy Kent Anche ha una maturazione Incredibile Inizia E diventa quasi saggio A un certo punto Abbandona gli screzzi Con Jamie Tart Insomma Un personaggio Veramente Fenomenale Ted Lasso È proprio quella serie Che la guardi E pensi Ragazzi Ma che gran lavoro Che hanno fatto Davvero Io credo Che tra le comedi Sia una delle migliori Che siano mai state fatte Ne ho viste tantissime Ma questa Nel giro di poco tempo Mi è entrata nel cuore Nel giro di un annetto Sono riusciti A renderla Una delle migliori serie Di questo genere Che abbia mai visto Fino a questo momento Nella mia vita Per cui Fatemi un favore E guardate Ted Lasso Perché non Ve ne pentirete Per cui Questo è quello che pensavo Circa Ted Lasso Io vi ringrazio infinitamente Vi abbraccio Grazie a tutti Tanto bene Vi invito a scrivere Un commento qui sotto Fate pure spoiler Tanto tutta la recensione spoilerosa Cosa ne pensate voi Di Ted Lasso E se non l'avete vista Fatevi un favore Guardatela Su Apple TV Plus Perché vale Veramente la pena E noi ci vediamo Al prossimo Muiblog Ciao a tutti